Accoglienza, integrazione e prossimità, dialogo, sono le parole chiave che Poste Italiane, la più grande infrastruttura di servizi in Italia, ha inteso pubblicare per iscritto e tradurre in un volume Poste People, il mondo a portata di mano, per i nuovi italiani. L'opuscolo è in distribuzione gratuita nell'ufficio postale di Piazza Bricata Maiella a Sulmona. La pubblicazione è una panoramica sull'offerta di prodotti e servizi di Poste Italiane raccontati attraverso l'esperienza della cliente e la straniera e dei divendenti di Poste Italiane che lavorano nei 23 uffici postali con sportelli multilingua presenti sul territorio nazionale. Pubblicato nella versione cartacea in italiano ed inglese, il volume Poste People è disponibile anche in formato elettronico sul sito www.poste.it dove, attraverso il QR code, può essere letto in arabo, cinese, filippino, francese, polacco, spagnolo ed ucraino. Una sorta di vademecum per gli stranieri, o meglio ancora, per i nuovi italiani, con l'obiettivo di favorire l'integrazione nel tessuro sociale delle singole comunità.